Bray Wyatt in pericolo di vita. Stando a Fightful, l'atleta sarebbe uscito dai programmi televisivi della WWE a poche settimane da Vrestalmania, ve lo ricorderete, era in rivalità con Bobby Lashley, per affrontare una situazione molto molto grave che poteva addirittura portarlo a concludere la carriera e, peggio ancora, persino alla morte. In questa luce diventa ulteriormente comprensibile e giustificabile il blackout di informazioni che sono girate su di lui e anche la rarità di testimonianze visive certe capaci di farci davvero capire e comprendere cosa stesse accadendo. Noi, a Spizzichi e a Bocconi, abbiamo semplicemente assorbito il fatto che Wyatt fosse sensibilmente dimagrito. O almeno le immagini pubblicate sui social, poche e rare, ci davano questa sensazione. Ora, per come la vicenda è stata ben poco approfondita, non trattandosi di un infortunio canonico, quindi non c'è la rottura di un polso o di un ginocchio o di una caviglia o una frattura di una costola, quindi trattandosi non di un infortunio di questo tipo ma di una illness, dunque di una malattia, di un male, di un morbo, di un malanno, è evidente che ci fossero delle implicazioni tali da fermare le rotative, dal dover nascondere tutto dietro la tenda della privacy. Perché è la modalità che ha deciso di adottare la WWE quando c'è qualcosa che è meglio non gettare impasto alla stampa, ai siti e ai fan. Lo hanno fatto, ve lo ricorderete, anche nel recente passato, con la delicata operazione al cuore di Triple H, che ha rischiato anche lui di morire. Un intervento del quale siamo stati edotti solo una volta avvenuto, concluso e addirittura a recupero già in corso, quindi con la verifica che non ci fossero delle complicazioni. Ma attenzione, torniamo a parlare di Bray Wyatt facendo questo punto della situazione perché ci sono due buone notizie che ci rasserenano. Speriamo che siano corrette, giuste, precise, però sono due buone notizie. La prima è che ora Bray sembra aver superato la crisi e che adesso sta bene ed è fondamentale, è quanto volevamo sapere. Salvo ricadute, il peggio dovrebbe essere alle spalle. La seconda buona notizia è che la WWE, sempre stando a Fightful, che è la fonte dalla quale ho appreso la maggior parte di ciò che vi sto dicendo, quindi la seconda è che stando a Fightful la WWE starebbe vagliando come reinserirlo negli show, visto che Wyatt dovrebbe ricevere il via libera medico per lottare nel giro di poco tempo. Ad ora non ce l'ha, ma ci si aspetta che questo lascia passare non tardi a finire, o per finire, nelle sue tasche. Quindi dovrebbe arrivare, magari non domani, magari non tra una settimana, ma magari tra due o tre o quattro, sì. Il report di Fightful parla addirittura della possibilità che Wyatt faccia qualcosa di pubblico, quindi di visibile negli show televisivi, nel mese di settembre. Fermo restando che i piani non sono scolpiti nella pietra e che il combattente potrebbe anche solo parlare o interagire con il pubblico, o con uno o più avversari, senza poi necessariamente dover lottare contro di loro. O quantomeno, non subito, non nell'immediato, sappiamo che Wyatt è un maestro nel raccontarci delle storie che arrivano allo zenith, quindi al culmine dello scontro fisico, soltanto dopo tante settimane di vicende e avvenimenti. Allora, il punto chiave della vicenda, di queste news, è rappresentato dalle precauzioni. Ho ascoltato anche dei podcast e il brodo che ne ho tratto, quello più importante, è proprio relativo a queste ultime. Perché la WWE avrebbe deciso di affrontare questa situazione, visto anche che, insomma, c'è un contesto umano, ma ce n'è anche uno che non possiamo dimenticare di immagine, e se dovesse accadere qualcosa di molto grave ad un atleta che è sotto contratto, potrebbero anche esserci delle ripercussioni mediatiche negative. Quindi, dicevo, la WWE ha deciso di affrontare tutta questa situazione pensando prioritariamente alla salute a breve e a lungo termine del wrestler. E quest'ultima, quindi la salute, rimane costantemente al centro di ogni valutazione e di ogni stima. Ed è il comportamento giusto, corretto, quello che ci si deve aspettare da una multinazionale di questa portata e di questa entità. Ora, io lo so, è normale, siamo esseri umani. Vi starete chiedendo cosa sia successo nei dettagli a Brei. Ed evidentemente è qualcosa di grave, visto che si è interrotta una delle storyline più intriganti degli ultimi anni praticamente ad un passo dello show più importante di tutti, senza che nessuno fornisse delle spiegazioni. I rumor che girano sul web adesso sono molteplici. si va dai problemi psicologici legati alla morte ravvicinata di molti cari amici del wrestler, e già di questo ne parlavamo prima, sino all'insorgere di qualche grave male, di quelli proprio pesanti, da dover combattere subito, senza perdere tempo, magari anche con un'operazione chirurgica di cui ad ora non sappiamo niente. Si tratta di una cartuccera di ipotesi plausibili. Ma potrebbero anche essere molto distanti dalla verità. Dunque, non fidatevi. Vi suggerisco momentaneamente di non basarvi su di esse. Perché la realtà ci stupisce spesso. E se non c'è una dichiarazione, se non c'è una certezza, se non c'è una fonte che ci mette la faccia scrivendo le cose con dettagli, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, manteniamo uno spazio bianco all'interno dei nostri pensieri. Lo sapremo un domani. Prima che si fermasse, per Wyatt era in discussione, ne abbiamo parlato anche qui sul canale delle news, un'idea che lo avrebbe visto formare un gruppo con Alexa Bliss, Anko Laudi, interpretato da Budallas, quindi da suo fratello, Eric Young, e forse anche da altri fiancheggiatori. Ora, questa cosa qui, al momento, non è proponibile. Perché Alexa Bliss è in maternità e ne avrà ancora lungo. Young ha chiesto e ha ottenuto la chiusura consensuale del rapporto lavorativo con la federazione e, insomma, c'è tutto da rifare. Però nulla vieta che si possa creare un altro cerchio di protezione attorno a Bray che potrebbe giovarsi di questa ridda di alleati per riprendere lentamente confidenza con il ring e anche con i ritmi lavorativi della WWE, fermo restando che lo si potrebbe reintrodurre senza fretta e senza appesantirlo di incombenze. Ora, tornando alle novità diffuse da Fightful, ciò che mi rasserena e ce n'era bisogno è questa brezza di positività. Come se la tempesta fosse quasi alle spalle. E incrociamo le dita. speriamo che sia vero e che si continui su questo binario. Per quanto mi riguarda e vado in conclusione, non avendo dei punti cardinali sicuri, definitivi e certi sui quali basare le mie opinioni, per adesso la metto così. Ci sono tante cose nella vita che si fanno in maniera quasi automatica, quasi inconsapevole. Perché ne senti la vocazione, perché le identifichi con te, tu diventi quelle azioni, tu diventi quell'impegno verso quella cosa. Lo fai perché stai bene, perché ti senti tu. E ad un certo punto tutto il correlato, i soldi, il guadagno, il tempo che ci investi, diventa quasi irrilevante, quasi marginale. Certo, a volte te ne accorgi, a volte quando torni alla fredda realtà ci devi fare i conti, ma mentre sei immerso in quel brodo primordiale d'azione, no. E di questo processo ne prendi consapevolezza il più delle volte con il passare del tempo, con l'età che aumenta, soprattutto se agisci in ambito artistico. Ecco, se il wrestling per Wyatt rappresenta un elisir, un antidoto, una rivalsa, un riscatto, oppure una predisposizione positiva irrinunciabile, se è così, allora mi auspico di rivederlo a Raw o a SmackDown appena ciò sarà possibile. È un fiore che sboccia, che deve sbocciare. Se invece il wrestling è un'ossessione, un ponte verso un passato che psicologicamente continua a fare male, o un percorso inevitabile verso l'autodistruzione, allora confido che si fermi. Ha una vita, ha una compagna, ha una famiglia, spero per lui che non abbia problemi economici, ma al di là di questo c'è tanto altro nella solida vita concreta rispetto al raccontarci le sue storie e i suoi incubi all'interno di uno spettacolo televisivo. A maggior ragione se questo male che l'ha colpito e che sta superando gli ha ricordato quanto fragile sia la nostra esistenza e come a volte siano necessarie delle rinunce anche parecchio dolorose per darci però delle priorità chiare limpide irrinunciabili e questo è quanto ora la palla passa nel vostro campo io vi ho raccontato tutto quello che ho assorbito dal web voi ripagatemi se potete con un mi piace con la condivisione del video e poi ovviamente attendo le vostre opinioni con dita roventi qui sotto nello spazio dei commenti